Lo so, ma abbiamo avuto dei problemi. Sì. Va bene, ci vediamo al ristorante. Sì. 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 Ci sarò. Ci sarò. Tranquillo. Ci veniamo dopo, Lesa. Preparatevi a tutto. Ricordate con chi abbiamo a che fare. Ma sparate solo se provocati. Ok, andiamo. Da questa parte. Andiamo. Che posto è questo? Lei è una fabbrica. La copertura di sì. La sua bottezza. Decisamente non un bel posto. Ma che bello. Ragazzi, allora facciamo silenzio. No. Signora! Sono tutta uguale a queste donne. Ah. Che? Andiamo qui. Cosa cazzo? Oh, Cristo santo! Merda! Hanno beccato Tommy! Ok. Non sarà una passeggiata. E adesso? Andiamo! Troviamo gli altri! Forza! Che puzza che c'è! Sangue, sudore e lacrime. Questa merda. Lynch. Dobbiamo parlare. Che schifo. Non ora. Lo faremo dopo. No. Quando mi hai chiamato, hai detto che l'affare era sicuro. Veniamo qui. Mi rilassavo quanti tu. Portavo il carico in Africa. Il piano era questo. Ma qui siamo in mezzo a una guerra. Shhh. Abbassa la luce. Forse sì, che c'era con noi, capito? Dobbiamo solo scoprire perché. Non mi piace. Non preoccupate. Andrà tutto bene. Le porte sono tutte fatte di mezzo. Che sono troppi segreti, Lynch. Troppe strazzate. Già. Benvenuto a Shanghai. Togli di la sua copertura! Eh, dai! Che fai! E' successo. Non mianche lato. Dobbiamo trovare gli altri. Saranno morti, mai. Non lo so. di cuore ho interessa copertura non so bastardi andiamo! forza! forza! dange! ci vediamo in cortile sulla destra meno male, pensavo non li avremmo più visto ah dei rinforzi? bella lì dov'è Tommy? non ce l'ha fatta beh ragazzi minchia la garma e adesso? ti avresti il modo per salire eh il modo c'è sempre andiamo che biffa è che facciamo adesso andiamo a parlare con Sink la fai faccia? ora che siamo con gli altri siamo in arrestato buona tutto, si l'accetto non la posso da usare ci rivediamoci ci rivediamo da questa strada ma ammazziamolo perché non ho? il computer il computer ah 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 suggerimento ah è quello il suggerimento qua c'è un cazzo Dio Fottuti rifiuti Dobbiamo stare vicini Tenete gli occhi aperti Non so che siano le guardie di SIG Tieni gli occhi aperti, eh? Qui non c'è nessuno Non c'è nessuno per adesso Lynch, controlla l'edificio Vedi se SIG è ancora qui Ok Vieni con me Tu, sparisci Signor SIG, sono Lynch Che è successo sull'autostrada? Ascoltami bene Se fai così non otterrai dietro Stai indietro, faccio il modo mio Tu, vieni con noi Ti senti grande uomo? Tutti grandi uomini, eh? Sparare a ragazza Di che stai parlando? Tu, povero stupido Ho dito ragazza sbagliata Quale ragazza? Ragazza in mercato Figlia di Shansi No, non può essere Shansi non felice Per questo lui ucciderà tutti voi Lynch, idiota Allora è tutta colpa tua Viro a Shansi di vostra abilità Questo cambia le cose Ma voi due Merda Torna dentro Cazzo Cazzo Che situazione di merda Mica Ah, chi l'ho dito? Tutti Che è Non so che cazzo è successo là fuori Non mi comunque Non posso riservare E ora Li fariamo Non abbiamo senza Senti, mi metto qua Senti, mi metto qua Allora Abbiamo fatto fuori il suo pulgone Abbiamo fatto fuori il suo pulgone Abbiamo fatto fuori il suo pulgone Ecco, poi riammo Andiamo So, di qua Andiamo Ehi Di che cazzo stava parlando, Senti? Non è solo una guerra tra bande Tevo chiamare Sion Sembra che Seng abbia fatto carriera Ora lavora per Shansi Chi? Shansi Significa grande capo Noi abbiamo ammazzato sua figlia, la ragazza contro l'eliega. Che cazzo fa l'altro? Noi si mette davanti! Fatto! Di qua! Di qua! Scala al muro! Lince, in che casino mai che c'è? Sto cercando di pensare! Devo chiamare Siu! Mettilo via! Chi cazzo è Cianzino? Un funzionario corrotto! Il più pericoloso di tutta la fottuta Cina! Merda, non posso restare qui! Lynch, farà saltare la corda! No! Se stiamo tranquilli! Merda! Cain! Non ce la faccio! Non deve trovarci! No! 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 No!